Questo è il secondo censimento permanente che l'Istat propone al Paese. Noi raccogliamo una grossa mole di dati, ma per offrire informazioni su tantissimi temi, dalla digitalizzazione alla sostenibilità, all'internazionalizzazione, alle imprese, al Paese intero, per farlo crescere. L'informazione di qualità è fondamentale per far crescere e sviluppare l'Italia, il nostro Paese.